Siamo fuori perché la temperatura è 44, 42, 40. Non si può dormire. Non si può dormire. Non si può fare nulla, quindi abbiamo e tu usciamo. Però prima abbiamo fatto dei lavoretti, abbiamo dato le pillole, abbiamo dato le medicine a... Si ricorda che non mi... Aspetta. Io ho cercato di far mangiare Teddy che con questo caldo non vuole mangiare, sono anche preoccupata, però spero solo che sia il caldo e l'antibiotico. E invece c'è il capo Totò che lui... Mangia, non c'è bisogno neanche. Mangia per tutti, comanda per tutti, ti ha anche rubato il pettine, ha cercato anche di stampare la mia camicia da notte perché lui non aveva mai pensato che si potesse giocare, invece adesso che l'ha scoperto non smette di giocare. È molto entusiasta e ha anche scoperto il letto, bisogna dire. Però papà Tony non è d'accordo, ma comunque l'ha scoperto lo stesso ed è anche molto contento di questa scoperta. Ma già non ci entriamo io a te nel letto. Certo, quello perché mi fa mangiare sempre la pizza. Non solo la pizza, ma anche il girato a Nutella dopo. Sì, vabbè, il girato a Nutella è buono, con questo caldo a 40 gradi, infatti, siamo anche dato le pillole, le medicine, le pillole a Simba. È certo. E quindi ora siamo qua. Il quale Simba sta per fare una nuova visita perché non è migliorato più di tanto. E quindi cercheremo di capire mercoledì mattina, assieme a Boris, cosa dobbiamo fare. Domani mattina, perché siamo a martedì anche se... Sì, domani mattina. E noi stiamo facendo alcune considerazioni. Sì. Una. Vai? No, vai tu. Allora, una considerazione. E ma di il discorso che dovevamo provare... Scherzato? Come lo sapevo, le considerazioni sono rispetto ai continui, 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 richieste d'aiuto. Ah, ok. Perché noi sono... Perché le abbiamo mostrate qualche giorno fa, non molti, ma sono continuate ad arrivare. Alcune ancora quelle passate e tante, tante altre nuove. Ma proprio tante, tante. E lo sconforto che ha preso i nostri cuori. Sì, anche perché abbiamo cercato la capetappola per andare a prendere quel cagnorino a 5 fondi. In realtà ieri siamo stati gioli a cercarlo e le segnalazioni sono arrivate da tanto tempo. E siamo pronti per andare. Sì, vieni. E poi ci sono tanti altri cagnorini. Sì, non è solo quello che è veramente da metterci le mani ai capelli. Diciamo, la situazione è drammatica e dura. Anche perché non partono cani, perché è estate, ci sono più abbandoni che partenze. E recuperare... Molte di più. No, il cuore nostro è molto debole. Diciamo, ci fermiamo, ci fermiamo e ci siamo arrivati a tanti cani. Più del dovuto, perché il nostro cuore è molto sensibile, molto umano. Perché non tutti i cuori sono umani. I cuori umani sono quelli dei cuoricini che camminano. Mh, vero. Ed è così. E quindi arrivano tante richieste e per questo noi abbiamo deciso di riprendere i lavori e di costruire nuove boxe e di sistemare il muro nella recensione. Avevamo interrotto i lavori dicendo riprenderemo. C'è stato il rallentamento delle varie denunce cadute nel vuoto e quindi c'eravamo già promessi di riprendere. E abbiamo deciso di farlo adesso perché appunto non intendiamo fermarci, anche se dovremo sicuramente rallentare con i recuperi. Quindi vogliamo costruire, continuare a costruire un ambiente idoneo nel miglior modo possibile per tutti questi cuoricini che camminano e che abbiamo già salvato e continueremo a salvare dalla strada. Quindi preparatevi perché noi ci siamo organizzati e abbiamo trovato una nuova ditta, una ditta stupenda di cui siamo molto contenti che tra l'altro è un tuo amico e quindi è stato un piacere, allora non era disponibile, adesso lo è. Abbiamo già un nuovo preventivo. Da dire è una cosa che tutto quello che si fa è per loro perché sia il terreno, sia il camioncino, sia tutto quello che compriamo è a nome dell'associazione. Quindi lo ripetiamo ancora una volta, qualunque cosa succede, o noi molliamo o noi moriamo perché se tiriamo questo passo qua, veramente non penso che arriveremo fra due o tre mesi e non ci saremo più. E quindi poi ci deve essere qualcuno che ci sostituisca. Ok, quindi se noi moriamo non faremo come altre persone che si intestano personalmente i terreni, soprattutto, eccetera, così che rimangano a loro. Tutto ciò che è intestato all'associazione dovrà essere né mio, né nessuno, né dei nostri figli, ma ceduto a un'altra associazione di benediziazza. Che si prende cura. Che continuerà appunto a fare quello che stiamo facendo noi e a curare i cani. Questo per farvi capire la nostra onestà e la nostra passione verso di loro. Più che passione, il nostro dovere verso di loro perché loro hanno bisogno di affetto, hanno bisogno di tante cose. Perché veramente come usciamo la mattina, c'è l'inferno. Non per il caldo, ma per loro e li vediamo in giro e non sappiamo cosa fare. Abbiamo già chiesto, e questo ve l'avevamo già detto da tempo, i permessi per la ripresa dei lavori. Faremo tutto a norma. Andremo avanti seguendo perfettamente tutte le regole. Riprenderemo al più presto con quello che abbiamo interrotto. Quindi la recensione, cominceremo da lì, che sarà importantissima perché servirà a delimitare completamente tutto il nostro terreno. E poi faremo le suddivisioni interne. Con questo arriverà l'inverno, fra un mese e mezzo, due mesi ci sarà l'inverno. Quindi noi vorremmo essere... Sei molto ottimista, non credo, sei molto ottimista che tra dove gli sarà l'inverno l'avete visto. No, va bene, diciamo, prima che arriva... Ha sonno, ha sonno, non sa quello che ti dice. No, 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 sonno, che mi fa caldo. Mi fa caldo, quando gli fa caldo non capisce più niente. Mi perdo la testa. Diciamo, quando arriverà l'inverno noi dovremmo essere già pronti e loro devono avere tutte le cucce e tutte le cose necessarie per restare bene per l'inverno. Quindi ci saranno le delimitazioni interne, poi ci saranno le coperture rigorosamente ammovibili, essendo in terreno agricolo, che creeranno dei ripari sicuri. Abbiamo trovato anche questa nuova meravigliosa rete. Che è stupenda ed è indistruttibile, è proprio fatta apposta per i rifugi, quindi siamo molto, molto contenti. Non dobbiamo fare più modifiche, non dobbiamo doppia rete e spendere soldi in più. State certi che si renderemo conto di tutto ciò che faremo e che seguiremo questa volta tutte e tutte le regole e ci avvarremo di tutte le autorizzazioni necessarie. E ci impegneremo attraverso i miei video a essere sempre completamente trasparenti e veri e a mostrare sempre tutto, perché secondo me è una cosa molto importante. Il condividere il mondo dei social, quello in cui ci siamo tutti immersi, è questo, quello che ci permette di condividere i nostri pensieri e tutto ciò che succede. E creare quindi un meraviglioso gruppo. Chiudiamo, quindi chiudiamo e diciamo che l'inferno c'è, ma non è il caldo. Sono questi poveri codicini che camminano, che cercano aiuto e vi possiamo garantire, vi possiamo giurare che sono tanti, tanti, tanti. E noi non sappiamo come poterle aiutare tutti. Ne abbiamo più del dovuto, è vero. Però almeno hanno una chance che sono dentro, non vengono abbenenati, non vengono picchiati, non vengono maltrattati, almeno sono al sicuro. Poi, anche cerchiamo di aiutarli a livello medico, a livello veterinario, hanno tutte le cure, perché noi quando prendiamo un cane o quando qualche cosa, un cane sta male, vengono sempre portati e sono sempre monitorati dal nostro veterinario. O per telefono, o subito qualcosa d'urgenza accorre sul posto, o li portiamo noi. Ora che abbiamo il frugone, ci viene molto più facile, sempre grazie a voi che avete contribuito. Per il frugone per loro, è come un'autombulanza, un'ancora di salvezza questo frugone, che poi diciamo che dopo domani, o domani quando è, perché oggi siamo... Oggi siamo martedì, anche se non abbiamo ancora dormito. Abbiamo già un viaggio con i due cani, in cui staranno bene con l'aria condizionata e tutto. Certo che vi racconteremo direttamente con il mio telefonino. Sì. Comunque, ritornando, sta passando una macchina, c'è ancora qualcuno che va in giro? Sì, c'è. E vi possiamo giurare che sono tantissime le emergenze, e vi possiamo giurare che non so quanto potremo aiutare, ma che faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare il più possibile e il maggior numero possibile di quelli cinghiai che ammirano. Vedo. Sì, sì, vedo che già siamo oltre i minuti che avevamo programmato per... Vedi che sei un attore, tu avevi progettato i minuti, non me l'avevi detto! Guarda il copione che dice qua, guarda... Ah, hai ragione! Non superare i 15 minuti, siamo già a 14... Quanto siamo? No, 13, 40? 13, quindi abbiamo un minuto e mezzo, ok? Dopodiché dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere. Ok. Ok. Buonanotte. Buonanotte, chiediamo prima, perché noi siamo dei ribelli. Ciao. Ed il copione non ce ne frega nulla. No. Andiamo a dormire, perché no domani mattina che si sveglia? Sì. Domani mattina ci dobbiamo svegliare anche alle 6, perché è la giornata più calda che ci sarà. Domani sarà la giornata più calda, perché dopo domani ci sarà caldo la temperatura. Sono 43 gradi, e noi dobbiamo stare con loro a bagnarli e a cambiare l'acqua ogni mezz'ora, ogni ora, e quindi siamo impegnati con loro. Dare da mangiare molto leggero, sistemarli sotto il fresco. Ce l'hanno, perché il nostro, come lo chiamano? Parco alberato. È un parco alberato. È un parco alberato. Anche quello fa molta invidia, come i miei video, perché questo viene sgredditato. A noi c'è una cosa che ci fa disfacere, perché io non sono abbronzato, perché non ci vado in male, però non mi posso neanche abbronzare, perché là da noi il sole non c'è, quindi sono bianco sotto. Ah sì. In tanti, ma in tanti, in tanti ci vedete quanto potete dare il 5 per mille. Noi col 5 per mille, quando sarà, potremmo costruire un rifugio meraviglioso. Meraviglioso. Cioè invece chi prende il 5 per mille, ma si permette di parlare e di criticare chi 5 per mille non lo prende e che non sa come fare a proteggere questi cuoricini che camminano. Prendetele i muscoli. Ecco qua. La pronunzatura non c'è, ma i muscoli da sforzo ci sono. Ok. Ok. Buonanotte. Buonanotte. E niente, sognitoro. Noi, più che buonanotte, dobbiamo dire buongiorno. No, per me, buonanotte, devo dormire io sono, caro, eh. Io mi andrò a dormire. Ciao. Ciao. Ciao.